Anche quest'anno un programma tra musica e teatro, lo splendido scenario dell'antica Villa d'Ozium del I secolo a.C., nell'orario in cui si offre con la luce migliore, cioè all'imbrunire, nessun allestimento scenografico importante, nessuna amplificazione elettrica, la voce dei cantanti e degli attori come ci si esibiva il lotempore. Apriremo sabato con Eugenio Bennato che per l'occasione farà un concerto acustico inedito che non riprendeva tanti anni, che ha chiamato con un suo brano di circa 30 anni fa le città di mare, proprio per omaggiare questo luogo.